La giunta municipale di Battipagli ha dato il via libera al conferimento di quattro benemerenze. I riconoscimenti sono stati assegnati ai tre agenti della polizia locale Domenico De Vita, Francesco Mirabella e Giuseppe Pietro Pinto per aver svolto la loro opera con particolare determinazione nell'ambito dell'operazione antidroga compiuta presso la villa comunale Maria Longo. Il quarto encomio è stato assegnato all'assistente capo della polizia di stato Giovanni Ricca che lo scorso 15 luglio ha salvato la vita ad un bambino.